Questa sera ci troviamo a seguire l'allenamento del San Vito 83 in una strana location, non abituale rispetto al solito ma per motivi di forza maggiore. Infatti la squadra del presidente Valerio Catenaro sta svolgendo la preparazione precampionato in quel di Mozzagrogna nel campo B dove si allena congiuntamente insieme alla squadra locale del Treville. Come mai presidente Catenaro questa scelta? Buonasera Antonio, noi siamo in possibilità di ancora giocare sul nostro terreno perché il campo, il comunale di San Vito è interessato dai lavori per il sintetico e quindi aspetteremo il nostro turno come si suol dire. Abbiamo chiesto la disponibilità qua al campo del Treville che l'amico Paolo Paolucci ci ha gentilmente concesso per la preparazione e penso anche per gli allenamenti durante l'anno fin quando il campo non sarà pronto quello di San Vito. A tale riguardo l'attesa vale una trasferta perché San Vito può traffreggiarsi tra poco di una struttura degna di questo nome e quindi poi il fattore campo potrebbe anche influire in seguito? Speriamo, i lavori proseguono, adesso c'è stato il periodo di Ferragosto e giustamente sono stati fermi però confidiamo di avere il campo almeno a novembre, adesso questa è la data che si vocifera. L'amministrazione comunale ci sta dando una grande mano con questi lavori che aspettavamo da tanto tempo e noi siamo pronti anche perché l'anno scorso abbiamo disputato le partite a Ortona quindi siamo pronti per il sintetico, speriamo arrivi presto. E anche quest'anno voi le gare casalinghe in attesa del campo in sintetico le giocherete a Ortona, mi sembra di aver letto sul comunicato alle ore 18 perché sappiamo che quel campo è utilizzato anche da altre squadre, quest'anno tra l'altro anche dal Fossa Cesia? Sì, noi ringraziamo sempre la società SS di Ortona che ci ospiterà anche quest'anno per le partite, cioè quest'anno, questa parte di campionato per le partite alle ore 18 della domenica, sì quel campo è sfruttato al massimo, ci sono varie società, c'è il Fossa Cesia, c'è l'Ortona quindi giustamente noi siamo in terza fascia quindi ci accontentiamo degli spazi che ci danno, purtroppo non ci siamo potuti allenare perché c'è il Fossa Cesia e quindi va bene questa soluzione, per adesso ci barcameniamo su due campi, aspettando sempre il campo di San Vito. E parliamo proprio del San Vito, di certo c'è la riconferma dello staff tecnico, molte squadre che abbiamo interpellato vi danno come la favorita numero uno, certo sarebbe stato meglio viaggiare a fare i spenti, ma tant'è. Allora sì, lo staff tecnico è stato confermato in pieno, i due mister Roberto Nardone e Nicolino Nardone, abbiamo avuto tanti ingressi anche in società e questo a me fa enormemente piacere perché abbiamo avuto l'apporto di forze fresche, anche giovani del posto, con voglia di fare, quindi di questo me ne rallegro. Sì, ruolo di favorita, sulla carta in teoria sì perché prendi i giocatori e giustamente le altre squadre, le altre compagini ti danno da favorita, però poi è il campo che parla, quindi lasciamo stare le chiacchiere, vediamo il campo cosa dice. A proposito di giocatori vogliamo citare chi sono questi nuovi arrivati, li abbiamo visti all'opera, questa sera manca ancora qualcuno, ma la maggior parte sono affermati. Sì, abbiamo preso in porta Marco Della Pelle, è un ragazzo che inseguevamo già dall'anno scorso, che poi ha deciso per un'altra destinazione, poi c'è stato il ritorno di mio fratello, quindi questo è un mio orgoglio personale, che scende da un campionato importante d'eccellenza in prima categoria, quindi sono molto contento di questo. C'è Simone Filomarino, esperienza da vendere, Bolognini, Giovanni, c'è Bruno Sferrella, c'è Cicco Cioppo, ce ne sono diversi. Adesso non vorrei dimenticare nessuno in questo momento, però c'è Jacopo D'Alessandro, un altro sanvitese che torna a giocare per la squadra del suo paese. Io di questo sono enormemente orgoglioso, riportare i sanvitesi a giocare per il San Vito. Poi ovviamente ci sono tante riconferme rispetto alla scorsa stagione. Sì, la rosa è praticamente quasi la stessa, d'eccezione di Mattia Marrone, portiere, di altre persone che hanno deciso di fare altre esperienze, oppure chi ha lasciato direttamente il calcio. Ah, dimenticavo tra gli arrivi anche Innocenti Gabriele, che presenteremo con un post più avanti. Quindi la rosa è quella. Poi siamo tanti, è vero, però per un campionato come vogliamo farlo noi servono tutti che siano pronti a dare un contributo alla squadra. Dicevo all'inizio che le altre squadre vi indicano tra le favorite. E secondo te invece, Presidente, chi sono, a parte voi, ovviamente le altre? Allora, adesso i gironi non sono usciti, quindi non dobbiamo avere la certezza di giocare sul girone B. In quel caso comunque ci sta sicuramente l'Altino, che ha fatto sicuramente una buona squadra. Senza dimenticare le ostiche Perano. Adesso fosse a Cessia 90, non so come si è mosso. Rocca Spinalvede è sempre un'incognita, tu non sai mai cosa trovi là. Il campo è sempre ostico, difficilissimo per noi del San Vito, che a memoria non ricordo di aver mai fatto i tre punti lì. Adesso Palena, non so, pure Palena sova di un paio di movimenti importanti, di ritorno pure magari. E' tutto da scoprire, sinceramente non saprei indicare delle squadre. Secondo me è un campionato molto equilibrato, quello mi aspetto. E per concludere ci dobbiamo attendere nuovi innesti da qui all'inizio della stagione ufficiale? No, penso che la rosa sia a posto, numericamente ci siamo, quindi non credo che ci saranno ulteriori arrivi. Siamo a posto così.